arrivo facendo questo accendi il telefono sei questo? si mi viene metterti qua io mi metterei anche là qua 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 e non rende e non rende dov'è di volare dai accesa? sei sicuro? accesa? eh si accesa ma via dalla luce ma è questa? eh qui eh ecco perché da là sentivo sto rumore ero io ero io non a me calo vai eh un po' vinto e te riesce a caricare di arugginizi figlio come a me è quello che proprio arriva ciao non sono arrivato giusto prima io porto poi io ho giocato bravo lori ma possiamo partipare a pezzare dopo o sono vanno le pari e vanno 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 provare l'acqua per il presente si E' un po' di più Grazie a tutti.